Davano appuntamento ai loro clienti nella zona di Campodimarte ad Arezzo in prossimità degli esercizi commerciali e lontano da occhi indiscreti, a fermarli i militari della Guardia di Finanza. Nel merino delle Forze dell'Ordine sono finiti quattro stranieri di origine nigeriana e tunisina, tutti di età compresa tra i 30 e i 50 anni. L'operazione è iniziata a maggio scorso, quando le Fiamme Gialle hanno iniziato a monitorare il comportamento di un gruppo di stranieri già noti alle Forze dell'Ordine per reati inerenti lo spaccio. In questa zona di Arezzo, Campodimarte, le segnalazioni dei cittadini e di un comitato ormai sono numerosissime. Le immagini filmati acquisiti durante i pedinamenti hanno dimostrato come i pusher avessero dimestichezza nel gestire lo spaccio in questa zona. Di droghe leggere e pesanti, un'attività senza sosta, affermano gli inquirenti, a tutte le ore del giorno e della notte. In quattro settimane sono state verificate ed immortalate in maniera chiara ed inconfutabile oltre 200 cessioni di dosi di cocaina e roine d'hashish. Per i quattro è scattata la misura di obbligo di allontanamento dal territorio provinciale.